saluti dal vostro produttore di fiducia rieccomi nello screening di agri sementi siamo nel 2025 però è trascorso un po di tempo qui la sperimentazione continua lo stesso e ci sono molte cose interessanti intanto ora andiamo a salutare salvo così ci spiega anche un po cosa vuol dire screening buon pomeriggio picciotti benvenuti come sempre nel nostro screening screening interno dove noi studiamo e valutiamo le nostre varietà commerciali e non insieme ai vari competitor che sono presenti sul mercato nazionale ed non nazionale europeo oggi vi parleremo un po di varietà di varietà che magari non conoscete nuova varietà che sono stati registrati da poco sono stati adestati da poco diverse tipologie dai datterini dai cilicini ai gialli che stanno prendendo una buona fetta di mercato ai grappoli ai midi plum come già conoscete le nostre due varietà abbastanza affermate demetrio e tommasino seguiteci innanzitutto voglio precisare che questo è un trapianto del 12 ottobre 2024 siamo in una zona abbastanza calda ci troviamo esattamente a portopalo a tre chilometri da pachino dove abbiamo una conducibilità dell'acqua intorno a 4000 le serre sono abbastanza alte e reggiate ma la gestione delle varietà è unica per tutte le tipologie quindi i datterini vengono trattati in ugual modo come i cilicini come i grappoli come i cuori di bue e via dicendo quindi non c'è una gestione specializzata per la tipologia partiamo dal presupposto che qui vediamo la capacità genetica della varietà che può solamente migliorare in buone mani agricole questa varietà è il datterino 542 che sarà registrazione o nome quartarone è una varietà che è stata selezionata a pachino dove ha dato ottimi risultati nei trapianti da fine agosto fine tre piante di dicembre quindi per raccolte autunnali invernali e primaverili non va assolutamente bene per i trapianti da gennaio e poi perché come vedete la pianta ha poca foglia i grappoli sono molto esposti quindi alla luce del sole al calore così che nei mesi di giugno e luglio può creare problematiche alla colorazione mentre una pianta del genere è molto consigliata nei periodi autunnali invernali perché è molto areggiata quindi non favorisce la propagazione di malattie fungine detto ciò i punti di forza di questa varietà quindi ritorniamo al 542 quartarone i punti di forza sono una capacità di emettere un grappolo molto bello molto elegante come potete vedere qui ci tengo anche a precisare una cosa molto importante che la gestione non fa uso di prodotti speciali prodotti che possano aiutare la stimolazione del grappolo della radice alghe e altre tipologie di prodotti è una gestione molto easy con prodotti ternari una buona continuazione di base non viene utilizzato nulla nemmeno il classico brachizzante per regolarizzare la pianta tornando ai pregi ai difetti come pregio oltre avere una buona capacità di emissione del grappolo non sgrappola facilmente l'attaccatura è molto forte ed attaccata molto forte al lungolo ha un ottimo grappolo quindi oltre all'eleganza del grappolo stesso il gambo di un colore verde scuro carnoso con un sepolo sempre all'insù stile coroncina oltre alla buona capacità produttiva inoltre un colore in pieno inverno quindi abbastanza rosso frutto consistente sia sulla pianta che anche in poste raccolta i brix che abbiamo testato in questi giorni e otto e mezzo magari qualcuno diciamo io faccio 10 io faccio 7 ripeto qui studiamo la capacità genetica della pianta quindi magari in altre condizioni può arrivare a 10 può arrivare 11 magari in gestione un pochettino più sbagliate meno attente può arrivare a 7 qui abbiamo raggiunto otto e mezzo ovviamente parliamo nel primo nel secondo grappolo molto ovviamente nel grappolo a salire avremo un grado zuccherino molto più alto un'altra problematica che abbiamo avuto in questa serra che molti produttori combattono quotidianamente è l'attacco del virus tomato brown rucosa virus è un virus che è difficile da contenere difficile da controllare difficile da combattere chi dice che viene propagato per per seme chi da pianta chi da altri patogeni però non abbiamo avuto questo attacco più o meno a metà pianta e quindi tutta la serra un buon 90 per cento della serra è stata colpita da questo virus e ci sentiamo di dire in confronto anche a diversi competitor che possiamo visionare insieme abbiamo riscontrato una buona tolleranza diciamo non è una verità che noi ci sentiamo di dire che è resistente al tomato brown una verità che comunque ha un'altra tolleranza al virus ma riesce a produrre colora senza problematiche magari la pianta attaccata si rimpicciolisce la foglia il colore non te lo prende velocemente ma te lo prende copre e non butti niente quindi hai una buona capacità produttiva nonostante l'attacco del virus allora qui la serra è grande ci sono decine di varietà messe a confronto ora ne vediamo qualcuno e vediamo gli effetti del tomato brown appunto su ogni varietà ovviamente è diverso l'effetto può essere più sulla vegetazione o più sulla qualità dei frutti come potete notare qui siamo in una varietà competitor commerciale dove ha avuto anch'esso un attacco di tomato brown ma lo sta manifestando in questo modo dove poi i frutti diventano incommerciabili e a perdere è solo ed esclusivamente il produttore ho visto che molte varietà dei competitor se sono ridotte in questo questo è il 79 14 una nuova varietà di midi plum dove noi tendiamo a migliorare le prestazioni dell'ultima varietà che è in commercio il tommasino dove in termini qualitativi e in termini produttivi come vedete abbiamo un'ottima pezzatura molto più grossa rispetto al classico demetrio tommasino un'ottima consistenza dei frutti cerchiamo di mantenere sempre l'eleganza del grappolo con rachide spesso carnoso verde scuro e i famosi sepoli all'insù che tendono a chiudersi verso l'interno oltre una bella capacità produttiva direi che per questo video è tutto ovviamente se avete delle domande qualsiasi curiosità ci sono i commenti quindi sicuramente salvo sarà felice di rispondere seguiteci continuate a seguire il canale ovviamente iscrivetevi tutte queste cose già le sapete vi segnalo anche il sito di agrisementi www.agrisementi.it dove troverete tantissime informazioni per il resto salvo vuoi aggiungere qualcos'altro io vi ringrazio sempre per l'ascolto e continuate a seguire la pagina produciamo naturalmente che è una bellissima realtà una realtà che lavora la mattina si alza per lavorare e per mostrarvi come si diventa agricoltori in modo semplice mostrando anche le collaborazioni con i propri partner quindi seguite Gianluca se volete diventare bravi picciotti ovviamente fate bravi picciotti sempre ciao